Sai cosa fare, compagno? Sali sul tetto e sistema la ventola! Sali sul tetto, compagno! Grazie compagno, ora recupera l'ultimo campione. Lo scienziato compagno sta provando a fuggire a uno dei campioni, non lasciartelo scappare! L'abbiamo perso! Finico individuato a tutte le unità, sparare a vista! Allarme intruso! Allarme intruso! Sì! Il geniaccio ha lasciato cadere il campione! Prendilo compagno! Tutti a terra! Ecco uno splendido fool! Ora porta tutto a volo, però non far salire troppo la temperatura o evaporerà tutto. Vedo il bersaglio! Dovresti riuscire a usare quell'elicottero, Scorpio! Per la gloria di Paneu! Per la gloria di Paneu! Facciamola finita! Messi l'è lanciato! Rivolgo le loro sostanze chimiche, compagno! Fai attenzione! Mantieni le sempre al freddo! Ok! È ora di andarsene! Si stanno riscaldando! Devi fare in fretta! O le sostanze si rovineranno! Non mi deludere, compagno! Mai e poi mai! Le sostanze si stanno sciogliendo! Svaniscono nel nulla! Fai fretta, compagno! Tutto questo non velocizza le cose! Ottimo lavoro, Scorpio! Sapremo come usare questa roba! Ah, non ne dubito! Svaniscono nel nulla! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scorpio temo di essere stato avvelenato. Avvelenato dalle mezzogne della cosiddetta stampa libera. Che alla fine non è per niente libera, ma solo costosa. E a volte addirittura non è neanche in vendita. Questo è il caso di un certo giornalista di Singapore, che sta scrivendo un pezzo sulla corruzione a Panau. Non sono riuscito a comprarlo, quindi deve morire. Sarai tu a somministrarmi l'antidoto, Scorpio. Sta fungendo in barca! Uccidi quel codardo! Attività ostile del settore! A tutte le unità! Convergero nell'area! Ora muovi! Sono felice, Scorpio! L'antidoto è stato somministrato e avvicinato. Ho fatto effetto! Ora sto bene! La libera stampa di Singapore ha imparato una dura lezione. Allora lo so! È un paese! La libera stampa di Singapore! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alarme! Presenza ostile nell'area! Sto soffrendo. L'infezione avanza. È tutta colpa di quei militari disonesti. Aiutami a distruggere la loro base. Così il virus sarà espulso per sempre dalla mia mente. Sto soffrendo. Sto soffrendo. Sto soffrendo. Sto soffrendo. Sto soffrendo. Medico individuato a tutta l'unità. Spara alla vista! Ok, Scorpio. Ora viene il bello. Distruggi quei silo e fallo con stile. Sto soffrendo. 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 Grazie a tutti. 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 Attacco dal bianco! Ho il quadrato! Ti vedo! Ah! Facciamo la p***a! Circontiamolo! Ora mi esco di vero! Osservando le fiamme che salgono al cielo, immagino l'ira del governo! No! 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 Andate! Andate! C'è un'intrusione all'aria! Deve essere caturato subito! Proverò il modo di usarla. Machi damit! C'èって poi sta bi Copy! Sì! C'è questa nuova! Qu simulations! C'è unlicere mini e questo Corolla! Oh! Contatto visivo, chiediamo rinforzi. Eccolo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visito individuato a tutte le unità, sparare a vista! Mandateci un'elicottero, subito! Grazie a tutti. 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 Oh, quanto mi piace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nemico avvistato a tutte le unità, avanzare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.